Un caro saluto a tutti, sono Pietro Chiaventi, attuale sindaco del Comune di Goito. Mi ricandido alla carica di sindaco del Comune di Goito, un paese a cui sono profondamente legato. In questi anni abbiamo fatto tanto insieme, siamo qui ora sul lungomincio e come non pensare alla valorizzazione del nostro bellissimo fiume e delle sue sponde. Qui abbiamo portato eventi, manifestazioni e rappresentazioni nell'arco di questi anni. Vogliamo continuare a investire sul fiume, dobbiamo però investire anche sulle infrastrutture, dobbiamo investire sul Convento Medellettino, sulla Sala Verde, sul Castello dell'Incoronata e per migliorare sempre di più la didattica nelle nostre scuole. Quindi migliorare la struttura di Solarolo, migliorare la struttura dell'infanzia e pensarne una nuova appunto per Cerlongo. Siamo qui per farlo insieme, abbiamo pensato in questi anni alla nostra tangenziale, sembrava qualcosa di irraggiungibile quando siamo arrivati. Abbiamo firmato un accordo da 100 milioni di euro che vedrà la realizzazione della tangenziale nel 2028. Quando siamo arrivati sembrava impossibile da realizzare, però l'abbiamo fatto. Abbiamo iniziato a lavorare a una nuova farmacia, a una nuova sede farmaceutica presso Marsiletti. Se tutto andrà nei dovuti modi, a fine 2022 la sede farmaceutica verrà aperta. Stiamo continuando a pensare in prospettiva, lo stiamo facendo per il nostro Paese. Abbiamo dimostrato di essere in grado di lavorare e di mettere le cose a terra in modo concreto. Come non pensare a quello che abbiamo fatto su Piazza Manzoni. Piazza Manzoni prima era un semplice parcheggio, ora è una piazza vissuta da tutti. Abbiamo voglia di continuare a lavorare per voi e con voi. Il 12 giugno andate a votare. Lista immagina Pietro Chiaventi sindaco.